questo è un altro tema ci vorrebbe ci vorrebbe è un altro tema io penso che lo dico scherzosamente potrebbe vendere il ghiaccio al polo nord perché ce la vende talmente bene è vero o no non si può nemmeno fare uno spettacolo sto scherzando prima vado da Elisabetta tra messaggi che non ho letto telefonate che non ho passato proprio la prossima settimana ricomincino gli spettacoli dal vivo in America in modo particolare un locale dell'Arkansas quindi di uno stato americano appunto ospiterà uno dei primi concerti definiti socialmente distanziati e questo il 18 maggio cosa vuol dire socialmente distanziati Elisabetta c'è un saranno effettuati i controlli di temperatura alla porta i posti a sedere saranno allontanati e saranno implementati decine di nuove norme e regolamenti per proteggere appunto i furitori però si può avere la proporzione quanti spettatori c'hanno prima e quanti ce ne sono oggi dopo tutti questi protocolli perché lì capiamo veramente quanto è stato ridotto l'affluenza in questo spettacolo non si sa Giorgia non si sa va bene abbiamo collegato Filippo Vigato l'architetto che segue un progetto per il teatro adatto a ospitare eventi in linea con le normativi del coronavirus è quello che praticamente aveva accennato prima la Valeria Gettor buonasera mi scusi e la ringrazio per prima cosa e poi le chiedo scusa per il ritardo di questa telefonata allora ci può spiegare questo progetto ma è un progetto che nasce sulle linee guida sostanzialmente che sono state emanate che in realtà è giusto dire e concordo con tutti gli ospiti che avete avuto un parterre da RUA eccezionale sono linee guida che ancora sono in fase di discussione in realtà quindi vanno validate controllate dagli addetti ai lavori e soprattutto vanno emanate e quindi diventano poi parte integrante delle nostre normative tecniche ecco io parlo da tecnico sostanzialmente quindi non entro nei meandri della vendita piuttosto dell'opportunità politica di fare alcune scelte ecco noto che le linee guida danno dei vincoli che sono incredibili nel senso bene perché la ripartenza è ottima ci aspettavano di ripartire tutti a settembre almeno invece sembra che l'estate in qualche modo sia garantita male perché le casinze che sono previste sono capienze ridicole allora il problema qual è? il problema è trovare una soluzione tecnica che interpreti le norme che sono messe sul tavolo io farei un distingo sostanzialmente direi che i tavoli tecnici aperti e ce ne sono molti di aperti Anica Agis Asso Musica devono interagire in questi giorni per riuscire in qualche modo a gestire al meglio opportunamente queste linee guida che a tutti sembrano fuori luogo dall'altro il compito dei tecnici è quello di dire sulla base di queste regole troviamo la soluzione migliore allora la soluzione migliore si trova sostanzialmente anche interpretando la norma che non è semplice perché ad esempio facevo notare ai colleghi che il distanziamento sociale di un metro ecco come si misura va dalla sorgente emittente bocca a bocca oppure si misura a distanza braccio a braccio o mano a mano cioè questo cambia tutto ad esempio perché in un teatro ad esempio che può avere le sedie a 54 cm il posto che si salta potrebbe essere solo uno anziché due e quindi potrebbe essere molto importante dal punto di vista delle capienze quindi ecco per noi i tecnici è importante avere ecco cognizione precisa di cosa si intende per le norme per le norme state individuate e occorre anche effettivamente comprendere che io un po' mischiero con quello che pensa lei dottor Borile e alla fine la partenza è sempre una buona cosa ecco partiamo sostanzialmente adesso con mille posti all'aperto che sono pochi mi rendo conto ma per alcune tipologie di spettacolo posso essere una capienza importante penso ad esempio il cinema all'aperto per prepararci alla fase 2 e concordo con chi ha detto che la fase 2 non è adesso la fase 2 sarà più avanti questa è la fase 1 bis peraltro una fase che neppure adesso è certa perché ad oggi nessuno sa quando partirà effettivamente si parla dei primi di giugno con il festival di Ravenna teatrale ma l'abbiamo detto chi può dircelo l'abbiamo detto l'abbiamo detto l'abbiamo architetto no 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 il festival di Ravenna insomma questo è quello che doveva aprire non è un segreto è in cartellone per cui insomma non è un segreto e quindi da questo punto di vista ecco mi aspetto che arrivino delle norme chiare e poi notavo diceva prima Piparo giustamente ci vuole lucidità e la lucidità ma anche in questi momenti di paura penso alle fasi post incidenti di Torino ecco l'ho portato nelle piazze italiane è una mitralizzazione degli spazi chiusure transennature contapersone anche in realtà che effettivamente non avevamo bisogno oggettivamente ora qui il problema è diverso nel senso un problema sanitario che va gestito e va gestito con un protocollo che a oggi non c'è ma lei ha un progetto vivato lei ha un progetto proprio anti-covid anti-coronavirus come lo vuole definire meglio noi stiamo facendo un progetto anti-covid che secondo noi può funzionare nel senso che prevede una sanificazione mi faccio un esempio dei progetti che ha sì sì è questa è molto semplice in realtà l'accesso c'è una sanificazione complessiva della persona che passa attraverso un tunnel di sanificazione sostanzialmente o da un processo di sanificazione entra nella parte del teatro il teatro appunto viene allocato nel suo posto attraverso gli ingressi dedicati per cui ogni settore ha un suo ingresso senza fare il settore un ingresso comune e la distribuzione dei posti è fatta preventivamente con la vendita appunto della telematica dei biglietti il distanzialimento sociale viene garantito e secondo noi verrebbe garantito non tanto con il distanzialimento di un metro posto posto ma quanto con gruppi omogenei nel senso una famiglia che è già convivente non ha senso dividerla ecco andrebbe messa in continuità nei posti e su questo ad esempio la norma oggi non dice nulla vi faccia nel suo studio nel suo preparare questo semplifichiamo il fatto in modo che i nostri telespettatori capiscano allora il gran teatro Geox ha una capienza di 2008 2009 2007 nel suo ragionamento quanto potrebbe contenere tenendo presente tutti i protocolli che lei stava citando e la sicurezza per chi va all'interno tanto per capire per fare una proporzione nel suo progetto se vale la pena tenere l'appello che è aperto economicamente allora se noi guardiamo la norma come è scritta adesso senza interpretarla in modo ampio diciamo che la capienza attuale è sui 300 posti quindi sarebbe proprio impossibile tenerlo aperto e nella sua idea e nella sua idea la mia idea invece che è l'idea che condivido con gli organizzatori e i gestori del teatro è quella di dire vediamo di fare un protocollo che ci consente di mettere in sicurezza le persone per cui possono entrare tranquillamente in sicurezza e di utilizzare questa norma che ripeto non è ancora cogente per cui è un'ipotesi e spero cambi nel modo più ampio possibile nel senso che se ho mascherine e ho guanti alle mani e quindi ho i miei DP di protezione personale e posso garantire il metodo di distanza tra sorgente e emittente quindi bocca a bocca così la capienza diventa interessante diventa quasi metà la capienza attuale e quindi ci sono sentirebili di lavorare in sicurezza e in salita rimanete collegati perché lo chiedo qui a studio perché stiamo facendo il collegamento con Valeria Mazza dell'Argentina quindi vi rubo un attimino lo spazio in video però voi potete intervenire sul ragionamento che ha fatto Vigato sì Vigato no non sia farsi rispondere perché non possiamo rimetterlo in video eh no allora mi chiedo allora mi chiedo semplicemente tutto questo se porta dei costi che sono sostenibili ricordando a tutti che dopo il Cinema Statuto siamo nei primi anni 80 qui almeno tu e io già vivevamo e lavoravamo da tanto tempo non fa passare vecchio proprio no me lo ricordo anch'io dopo il Cinema Statuto ci siamo portati dietro tutto il corpo dei Vigili del Fuoco che viene praticamente mantenuto dallo spettacolo italiano questo nessuno lo sa ma ogni volta che noi apriamo la porta cling cling entrano con noi i Vigili del Fuoco che paghiamo noi allora attenzione attenzione tutto quello che facciamo poi se ne deve andare col virus perché altrimenti questi qua ci riportano altri costi e tutto questo poi lo paga il cliente il cittadino sì attenzione perché i Vigili del Fuoco di cui ho grande stima che ringraziamo Dio che esistano li paghiamo tutti sono assolutamente d'accordo con Beltotto il protocollo statunitario deve essere chiaro ma se ne deve andare col virus assolutamente d'accordo però io ho un timore io credo che la possibilità che ci viene data di riaprire dobbiamo sforzarci di interpretarla essendo molto creativi ma se c'è una possibilità qualche cosa bisogna cercare di fare perché io non ho paura di adesso io ho paura fra 8-9 mesi un anno quando rischiamo che qualcuno di noi non ci sia più ce l'ammazza abbiamo collegato lei la conoscerà Valeria Mazza vero? certi la conosciamo tutti la conosciamo lei era provocatoria la mia domanda perché è un personaggio che portava con Dottosalremo con Pippo Baudo no no ma magari naturalmente stavo scherzando eccola qui collegata guarda una bella donna come sempre buonasera buonasera buonanotte meglio non so che ore sono in questo momento in Argentina in Argentina sono le 7.30 6.30 sono le 5 ore in Argentina c'è un po' di rimbombo però l'abbiamo svegliata prestissimo grazie ovviamente anche a Valeria Mazza come sta vivendo in questo momento l'Argentina questo coronavirus c'è anche lì è molto meno impegnativo che da noi che in America com'è la situazione in Argentina per quanto riguarda questo virus Valeria Mazza Sì bene noi abbiamo credo che imparato da quello che è successo in Italia e anche in Spagna quindi qua si è chiuso subito tutto siamo entrati in quarantena hanno proibito assolutamente tutto da metà di marzo già quando c'erano appena pochissimi positivi diciamo casi positivi quindi lo stanno mantenendo però siamo già 50 lunghi giorni a casa e quindi sono fermi anche di spettacoli insomma in questo momento sono circa 6.000 persone positivi diciamo che si sanno e circa 300 morti l'espettacolo è chiuso qua e in questo momento dopo già quasi due mesi a casa si stanno facendo sentire tanto la gente dell'espettacolo perché non ce la fa più perché senza lavoro sai non si vede il futuro c'è un dubbio su quello che su che cosa succederà ecco e Valeria Mazza come sta vivendo questo momento guarda io per fortuna noi siamo arrivati un giorno prima che hanno chiuso le frontiere quindi sono felice che abbiamo potuto arrivare a casa e siamo qui con i miei quattro figli e gli sto bene tranquilla serena all'inizio credo che come tutti ho approfittato per ordinare pulire cucinare tutto quello che normalmente uno ha meno tempo da fare adesso a casa ho fatto tutto di più e adesso da questa settimana che ho cominciato per divertirmi e per portare anche un po' di allegria a altre case ho cominciato con uno show nel nel mio instagram su Valeria in vivo quindi mi diverto e condivido un po' con la gente che è a casa e che sta che non ce la fa più di guardare il telegiornale e sentire le notizie che sono sempre uguali mi sembra che anche Valeria viva la nostra situazione le due Valeria Valeria vuoi fare qualche domanda ovviamente visto che la conosci molto bene a Valeria Mazza Valeria grazie di essere qui con noi questa sera a raccontare anche la tua avventura e c'è un motivo particolare per cui questa sera abbiamo fatto questo incontro prima ancora del coronavirus proprio eravamo nei giorni prima noi stavamo pensando guarda facciamo qualcosa insieme facciamo un bellissimo evento perché come sai lei è stata anche donna eccellente è stata premiata in Italia lei è ammatissima ha una famiglia italiana e quindi ecco la fotografia stiamo vedendo filmato a Sanremo con Pippo Baudo stiamo vedendo proprio le immagini prego Valeria e quindi stavamo pensando prima che ci fosse questo lockdown di fare qualcosa insieme magari dedicato alle donne adesso io penso che possiamo rilanciare il nostro impegno a pensare di fare qualcosa legato alle donne quando ci sarà il momento giusto ma soprattutto ritorno alla vita ritorno alla vita con un live con un evento stupendo che ci unirà mi sembra mi sembra che Valeria Amazza sia la persona ideale per tutto questo Valeria le due Valerie per non fare per non fare confusione quindi è un personale bentottero sta guardando con un occhio molto interessato insomma se uno non guarda con un occhio interessato Valeria Amazza è strano assai cara signora ci manca molto signora ci manca molto torni presto il suo sorriso grazie grazie guarda io sapete che amo Italia gli italiani quindi appena aprono le frontiere io ci sarò in Italia e ovviamente che the show must go on per tutta la gente che lavora nel mondo dell'espettacolo non solo quella di avanti dalle telecamere ma anche dietro ci sono tantissime famiglie ma anche per la gente che ha bisogno dello spettacolo ha bisogno di andare allo show di divertirsi intrettenersi quindi dobbiamo trovare la maniera di che lo spettacolo continua se te le ripiacerebbe ripresentare Sanremo felicissima domani vado è stata una bella esperienza ma è vero che nel scendere quelle scale nel partecipare a essere presente all'organizzazione alla presentazione di questo evento tremano un po' le gambe c'è un'adrenalina incredibile 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 io credo che ho fatto Sanremo perché sono stata molto inconsciente perché se avrei saputo veramente dove stavo andando avrei avuto però un dubbio almeno però quando Pippo Vaudo mi ha detto che ha pensato a me e lui era talmente sicuro che io dovevo fare Sanremo che io sono andata con gli occhi chiusi veramente è un spettacolo che ti fa ti porta l'adrenalina all'imperito però è molto emozionante è bellissimo bellissimo io tornerei domani a farlo mi piacerebbe tantissimo Valeria ma c'è tanto che non sente Pippo Vaudo è da un po' sì ci siamo rivisti dopo ovviamente però adesso sì da un po' che non lo sento Ortobina voleva fare una domanda vedo anche lei che la sta sono contento di vedere questo bel sorriso che abbiamo visto in televisione anni fa che ci è molto familiare e speriamo di rivederla presto in Italia grazie va beh Valeria volete aggiungere qualcosa grazie un altro personaggio a cui sempre ricordo con molto affetto è Fabrizio Frizzi che abbiamo lavorato un paio di anni insieme e ci sarà sempre nel nostro cuore ovviamente anche noi nel ricordarlo ovviamente ci fanno passare dei periodi con lui straordinari purtroppo gli eventi della vita ha fatto anche questo e quindi davvero un peccato che certe persone ci lasciano va bene grazie Valeria Mazza buona giornata a lei a noi e buonanotte a lei buona giornata arrivederci grazie buonanotte arrivederci grazie vi saluto con tutto mio cuore grazie simpaticissima grazie Valeria Mazza grazie ritorno da Bay perché sono rimasto una domanda che volevo fargli ovviamente come Tica Master vende bilietti in tutta Europa com'è la situazione in Europa appunto sulla vendita dei bilietti dei vari concerti sono tutti sospesi rinviati com'è la situazione Bay allora la situazione relativamente similare a quella che sia in Italia molti stati in realtà hanno quasi subito annunciato che gli eventi estivi non avrebbero non sarebbero successi sostanzialmente questo ha aiutato l'industria a guardare all'orizzonte giusto a ripensare non al domani ma al dopodomani sul come prepararsi Ticket Master a livello mondiale vende mezzo miliardo di biglietti a rango 500 milioni di biglietti sostanzialmente i mercati sono fermi questo è un dato generale di un'industria che sta aspettando di quei 500 milioni di biglietti venduti quanti sono rimasti sospesi per via di concerti o rinviati o annullati un grandissimo numero difficile fare un numero preciso molto alto per cui un grandissimo lavoro da parte delle biglietterie di gestire un momento dove ovviamente la pressione del consumatore del fan che vuole sapere se il biglietto è ancora valido quando potrà andare al suo spettacolo eccetera paradossalmente vendiamo pochi biglietti ma abbiamo tantissimo lavoro di gestione da fare in questo momento per rassicurare le persone spiegare quello che sta succedendo e guidarli ecco voi vedete biglietti non solo per spettacoli musicali o teatrali ma anche per spettacoli sportivi visto che ultimamente anzi nei prossimi imminenti in futuro ci saranno tutti spettacoli senza biglietti cosa succederà non ho sentito la sua domanda i prossimi eventi soprattutto quelli sportivi saranno fatti a livello europeo tutti senza pubblico e quindi non ci sarà vendita di biglietterie di biglietti assolutamente no la Bundesliga che è quella che dovrebbe ripartire per primo saranno stati vuoti chiaramente stati vuoti però è un momento abbastanza interessante da un punto di vista tecnico sul modo in cui stiamo affrontando questo problema e questa situazione ci sono veramente due correnti di pensiero diverse chi sta pensando a come rifare più rapidamente le cose come si facevano prima chi invece sta pensando a come adattarsi alle cose che si dovranno fare troppo si può utilizzare questi momenti anche per riuscire finalmente a portare certi aspetti di tecnologia di modernità che per mille motivi non si è mai trovato tempo e spazio di poter portare per esempio il biglietto digitale perché ne parlavamo prima il biglietto digitale in Italia rimane in gran parte un sogno 70% di biglietti rimangono cartacei una cosa assolutamente assurda il biglietto digitale vero biglietto digitale caricato sul cellulare che può essere letto con un codice bar o anche con un FC permette di portare oltre e perciò noi di portare una piccola pietra alla riapertura essendo un elemento di ordine di gestione dei flussi e delle persone che può aiutare a favorizzare una riapertura che poi può diventare la regola assolutamente un biglietto vivo non è un biglietto cartaceo puramente morto che rimane in tasca ma un accompagnamento del fan della persona che vuole andare a uno spettacolo abbiamo l'ultima parte di trasmissione Bay e Pippero rimangono con noi saluto Vigato e lo ringrazio ovviamente perché abbiamo la pubblicità voi rimanete per l'ultimo break ormai avete fatto notte con noi concluderemo con voi andiamo in pubblicità saluto Vigato e noi andiamo in pubblicità rimanete con noi tra poco l'ultima parte ciao